Sono Michele Carrusci e sono da quattro anni in DICC, con il ruolo di industry leader e senior account executive. Il mio compito è quello di supervisionare e sviluppare i clienti e progetti life science e care privati, oltre che retail e manufacturing, accompagnandoli nel loro processo di digitalizzazione ed informatizzazione. Il mio percorso universitario è stato multidisciplinare, penso che il processo per arrivare ad un risultato di una soluzione sia più importante del puro voto accademico o dell'Ateneo di provenienza. È stata una scelta naturale, conoscevo già l'azienda ed alcune persone al suo interno, mi sono riconosciuto nei valori e mi è stata offerta la possibilità di sviluppare un nuovo mercato e di confrontarmi in un contesto internazionale ed ambizioso. Nel mio tempo libero amo fare teatro a scopo di beneficenza, grazie alle tecniche apprese ne ha tratto beneficio il mio ruolo, soprattutto nelle attività di vendita, di relazione con i clienti e nelle interazioni con il pubblico. È un'attività che consiglio a tutti, sia a livello personale che professionale. Credo di aver portato un mindset collaborativo ed un approccio empatico basato sulla trasparenza con i clienti, per creare rapporti di reciproca fiducia ed avere un win-win d'ambo le parti. Infine, la conoscenza dei mercati e dei trend di riferimento sono comunque il requisito fondamentale. Beh, con l'esperienza maturata negli anni direi tre cose fondamentali a me stesso. Di non aver paura di sbagliare, perché solo chi non fa non sbaglia. Di avere idee forti, ma difenderle debolmente. Ed infine di accettare la diversità degli individui come valore aggiunto. Non so rispondere a questa domanda. Penso che bisogna essere soddisfatti del risultato finale quando si è trasparenti. E come spesso accade quando c'è un match tra aspettative e valori, allora siamo nel posto giusto.